Esatto, la magia del Natale in piazza del Duomo, Vittorio Emanuele, la galleria, sembra attirare sempre di più, non soltanto i milanesi, e allora la decisione, la decisione presa dal prefetto di Milano nel Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico di chiudere o comunque contingentare ingressi e uscite. Vedete, comunque c'è ancora tanta gente, nonostante le 18, cioè l'orario di chiusura dei bar, si è già scattata. Allora, noi abbiamo chiesto alla gente, ma cosa ne pensate di tutta questa vicenda, di questo Natale a porte chiuse? Sentite che cosa ci hanno risposto. La galleria adesso avrà gli ingressi contingentati per il pericolo assembramenti, cosa ne pensate? Dispiace, ma da un lato meglio così, nel senso che la situazione è abbastanza delicata. Anche questa sera c'è in giro parecchia gente, le 18 sono già passate, i bar sono chiusi, ma la gente è in giro allo stesso. C'è anche da dire che comunque le persone hanno voglia di ritornare comunque alla normalità, quindi questo sicuramente si fa sentire. Siete disciplinati? Abbastanza. Sì, dai. E come sarà il vostro Natale? L'ultimo dell'anno? A casa. Con i pari, con la famiglia. Anche voi? Per forza. Non si può uscire. Siamo obligati. Dobbiamo supportare, nel senso mi sembra anche giusto, capisco che è difficile, però dobbiamo fare dei sacrifici. Diciamo che per questa sera i controlli ci sono, abbiamo visto polizia, vigili, ma probabilmente c'è anche tanta benevolenza. Da domani invece scatterà la linea del rigore fino all'epifania.